Buonasera a tutti, volume al massimo, voce ben portata anche se sono già le 22.33, tra l'altro 22.33. Benvenuti alla Night Session su Bitcoin con analisi ciclica evoluta, metodo statistico-matematico non discrezionale per poter predire i movimenti di Bitcoin, delle cripto, degli indici, delle commodity, di qualsiasi cosa vi possa venire in mente. Sono simpatici, davvero li ringrazio perché è una simpatia micidiale, sapete che eravamo short e non ci hanno voluto chiudere un nono T-3 che poteva andare tranquillamente a chiudere nel tempo corretto tutto il movimento. Cosa hanno fatto? Sono saliti un po' e poi sono risprofondati esattamente dove vi dicevo che si doveva tornare se si voleva andare a chiudere in maniera corretta appunto tutto un ciclo settimanale e anche qualcosa di più. Quindi, siamo ritornati su questo livello volumetrico che vi dicevo che poteva dare buoni rimbalzi e cosa è successo? Stiamo provando a rimbalzare. Solo che, se vogliamo guardare bene il grafico, e ve lo allargo un po' perché adesso la situazione generale ce l'abbiamo, se volete guardare bene, qui mi dava una partenza di un Tecnica 2 un po' dubbia. Qui poi è iniziato a prendere un po' più di velocità, ma qui avevamo già raggiunto uno dei target che si poteva raggiungere e ci si poteva fermare. Quindi, non c'era molto da fare quando avevamo già questa candela che tra l'altro è diventata verde e si è fermata appunto prima sul massimo. Abbiamo detto, ok dai, con poco spazio, vediamo un attimo cosa succede perché sugli indici anche oggi tanto rumore di fondo, tante finte. Qui una finta per far partire un nuovo T-3, qui altra finta per far partire un nuovo T-3 è discesa. Orchè miseria. Comunque, appena hanno toccato questo livello, boom, sono rimbalzati troppo velocemente, di nuovo andati ad un altro target dinamico del Tecnica 2, per cui ho detto, con questa candela abbiamo sfiorato il target che era appunto qui sopra, raggiunto, ci siamo attaccati lì e poi abbiamo iniziato a scendere. Quando siamo scesi ho detto, ok, adesso aspettiamo una chiusura di un T-4, comunque di un... di qualcosa per poter entrare long, ripartito immediatamente e ritornato sul livello volumetrico. Bisogna avere tanta pazienza, tantissima pazienza quando si fa trading. Qui, tra l'altro, arrivati al decimo T-3, e come vedete, e come vi dicevo, una bella finta rialzo, nessuna violazione dei swing per far partire un nuovo T settimanale, e ritorno sui minimi, bravi, gentili, simpatici, nonostante essi fossero fermati per del bel tempo, sopra la media mobile a 50 periodi e avessero persino tentato di tornare qua sopra, ma non è squillato l'allarme per andare long, ma è squillato, è sempre rimasto su questo massimo, quindi possiamo cancellarlo adesso. Adesso abbiamo appunto questa resistenza che è dinamica del tecnica 2 e del tecnica 3 che non ci fa passare. Attenzione, a un certo punto se partono volumi ci si appiccica all'inverso, tra virgolette, così lo chiamo, ma non chiedetemi spiegazioni, comunque si può partire ed andare su in tendenza. Bisogna però vedere una cosa fondamentale, importante. Qual è la cosa fondamentale per poter fare trading? Controllare a che punto siamo d'inverso. Qui a Mentum Bar non può aver chiudere, non può aver chiuso, qui a 30 tutta la vita, assolutamente qui c'è il primo iniziato per far partire un settimo t-3 inverso, però abbiamo anche questo robo qua, che comunque... no, non è vero, non abbiamo questo, assolutamente. Perché non abbiamo questo? Perché abbiamo soltanto una, due e un pezzo di... Ma cos'è questa roba qua? Non è niente, assolutamente no. Ok, però vediamo se abbiamo già altro. Da qui a qui siamo arrivati a 22 barre, no, manca ancora un top. Quindi, dato che il primo iniziato è l'unico poi nella realtà dei fatti perché volevo farvi... darvi una fregatura. Qui a 41 barre si può aver chiuso, ma come detto, qui 1, 2, 3, troppo breve come intervallo. 5 barre, se ci fosse una fortissima tendenza a rialzo capirei anche 4. Ma qui, sì, sì, c'è la chiusura a 41 barre. Abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per... ma non abbiamo quella per far iniziare un ruoti meno 3. Capite che le regole sono fondamentali per fare tutto questo genere di riflessioni e se non lo sapete ancora potete richiederle direttamente qui su questo sito, analiseevoluta.com Dato che qui possiamo aver chiuso, ma non può essere iniziato nulla, a meno di... boh, raccordi, ma lasciamo perdere, d'inverso, il primo iniziato ad aver fatto iniziare un settimo di meno 3 inverso è questo. Ok? Quindi, a noi interessa capire se ci vincoleremo tornando su. Peccato che, vincolarsi ci si vincola prima della durata minima di un ciclo e qua sotto vedete che il ciclo giornaliero dura 24 barre. Noi le 24 barre le abbiamo superate, siamo alla 25esima. Quindi anche se si tornasse qui sopra, purtroppo in me non avremmo un vincolo che ci direbbe Ah, ok, si può salire ancora per tot candele. Se andassimo a superare questo massimo, dove però mettiamo ovviamente il nostro primo allarme, il massimo a 63.453 453, eh? Ricontrolliamo perché è tardi e la stanchezza inizia a farsi sentire. 63.453 Perfetto. Vincolo rialzista. Non più, ma almeno avremmo superato appunto questi massimi. In ogni caso, dobbiamo vedere che cosa hanno voglia di fare. C'è ancora una remotissima possibilità che si torni giù ancora domani prima di ripartire rialzo. Lo dico perché comunque abbiamo visto ancora questo. Ok? Se dobbiamo essere proprio onesti, Adesso è ora di salire. Ok? Quindi è ora di superare questo livello e poi andare ancora più su. Andare a cercare dei massimi in quest'area. Area che poi dinamica va controllata e tutto il resto. Ma se dobbiamo far partire qualche cosa di nuovo, un nuovo ciclo di grado magari settimanale, Ok? E a quel punto dobbiamo iniziare a darci una mossa a superare determinati massimi anche soltanto per darci un'idea di che cosa vuole fare e si vuole fare a livello di swing. Fate attenzione anche al tempo sul ciclo giornaliero, eh. Perché a livello di T4 abbiamo traguardato una data interessante. E vi prometto che a un certo punto vi farò vedere appunto questa centratura daily. non oggi però. Per determinati motivi. Per rispetto nei confronti del gruppo premium. Di persone che investono il loro tempo e il loro denaro per capire tutti i ragionamenti che fa un trader utilizzando un metodo statistico, matematico o non discrezionale. Qui, negli ultimi giorni, a parte il discorso festività e altro, ne abbiamo viste tante di cose. Davvero tante. Salita, discesa, salita, ridiscesa ma risalita. Tante finte, tanti movimenti rapidi. Adesso c'è il discorso delle trimestrali per cui potrebbero sporcare un po' il discorso degli indici. Chi lo sa se hanno un riverbero su Bitcoin. teoricamente assolutamente no. Ma non ho voglia di dare opinioni su questa cosa. Dico soltanto che non è stato per niente facile valutare di fare un trade oggi e poi abbiamo dovuto desistere perché non continuavo a darci falsi segnali che però abbiamo visto a livello di di altra tecnica aggiuntiva dell'analisi ciclica evoluta analisi evoluta oltre la vecchia ciclica. perché dovete sapere che non abbiamo solo più il tecnica 2 e il tecnica 3 che funzionano molto bene sugli indici e che dobbiamo finire di perfezionare su Bitcoin ma adesso abbiamo anche o anche creato da zero ideato da zero una cosa interessante ovvero degli indicatori volumetrici che ci dicono se è in essere un'inversione oppure no e quindi ci permettono di evitare di prendere cantonate anche con il tecnica 2 quindi la prima versione del tecnica 2 iniziato a settembre-ottobre anche un po' prima nella realtà difatti era uno strumento valido molto valido ma poteva dare dei drawdown di un certo tipo adesso adesso non più adesso in beh in realtà abbiamo detto dunque settembre-ottobre-novembre-dicembre-gennaio-febbraio-marzo-aprile eh sì in sette mesi lavorandoci tutti i giorni alla cremente sopra è migliorato talmente tanto che ha dato vita ad un qualcosa ancora di nuovo per cui qualsiasi altro canale parli di analisi ciclica non compete e proprio rimane indietro rispetto a quello che stiamo facendo su questo canale e mi auguro di riuscire a darvene prova tangibile come al solito con live trading piuttosto che altre cose o target come ho fatto sugli indici eh quanto prima perché bitcoin deve essere ancora affinato bitcoin a particolare e poi quest'anno con il discorso pre-alving degli etf e di tutto il resto bisogna vedere bene che cosa che cosa voglio di fare e quanto vuole cambiare perché i mercati cambiano lo sapete vero e quindi anche i movimenti di bitcoin stanno cambiando per queste altre cose come di consueto vi ricordo che ci sarà il mio intervento allo Swissquote trading day del 4 di maggio alle ore dalle ore 9 della 17 15 a Lugano interverrò l'evento è completamente gratuito anche pranzo offerto da Swissquote l'hotel è fantastico semplicemente fantastico e bisogna però registrarsi attenzione perché i posti sono limitati siamo già praticamente in overbooking e beh gli ospiti sono assolutamente di valida portata per cui attenzione perché si rischia poi di rimanere indietro e sono sempre opportunità che si può che si può decidere se prendere oppure no anche per farmi tante domande per vedere le centratura appunto daily per per conoscersi perché devo trovare il tempo adesso anzi voglio trovare il tempo per rispondere a tre persone che mi vogliono fare vedere altre cose relative all'analisi evoluta perché vogliono anche loro dare un contributo per migliorarla e quindi è molto bello perché sembra un sistema open source si scelgono però persone solo estremamente capaci come sapete e si seleziona tanto perché selezionando tanto le persone abbiamo meno persone decisamente meno persone nel gruppo premium ma non abbiamo più gente che perde tempo turisti prigionieri incapaci arroganti tutta gente che è entrata e che fortunatamente adesso non può più darci fastidio perché è finita in blacklist adesso infatti si lavora estremamente bene con gente che ha voglia di imparare ha voglia di capire e di seguire detto questo noi ci aspettiamo salita ok teoricamente ancora domani potrebbero però fare una spike ribassista se volessero fare proprio una porcata perdonatemi il termine ma ve lo devo dire solo che in questo periodo di nuovo continuiamo a vedere delle cose simpatiche in ogni caso il trend principale domani da domani da dopo domani in avanti ok può essere di per un rimbalzo per un rimbalzo appunto verso determinati livelli volumetrici che darò come al solito nel gruppo premium stiamo aspettando di vedere se ci danno questo tecnica 2 tecnica 3 long oggi sugli indici li abbiamo aspettati tutta la giornata fortunatamente non ci è mai scattato perché gli indici sono andati giù e quindi siamo rimasti a guardare e ad attendere guardando anche altri altri grafici come quello appunto dell'oro del petrolio penso che sia tutto vi ringrazio per il vostro tempo e se il video vi è piaciuto e apprezzate l'impegno anche alle 22.48 di sera mettete un bel like e consigliate il primo canale in Italia sui cicli a chiunque incontriate che voglia appunto uscire dal parco voi buona serata a tutti grazie